Ciao a tutti, siamo io, Enzo Zaccaria, vogliamo fare i tanti auguri di Natale, è un felice anno nuovo, a tutti voi in Italia, tutti i familiari, tutti i amici, cugini, parenti, specialmente mia sorella, suo marito e i suoi figli, tanti auguri, divertitevi, non bevete molto per far male, questa è Zaccaria, vuole fare gli auguri per lui, tanti auguri, vogliamo fare pure a tutti gli amici, che non ci vedremo in molto tempo, non so quanto ci vedremo, oggi il 24 dicembre sono le 3, fa un caldo pazzesco, e niente, ciao, 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 la tempra, ciao